Da dieci, da dieci, da dieci, da tutti insieme, tutti insieme, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, due, due, uno. Siete, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, andiamo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allora fermi gli altri stampinisti. Siete meravigliosi. Siete meravigliosi. Grazie ragazzi. Ma del lavoro più importante di tutti oggi stamattina, veramente. Ciao ragazzi, ciao! Ci vediamo dopo, eh! Ciao, 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 ciao! Ricordo, è qui, anche qui ci sono quei ritornati a pari che stanno arrivando. Sì, sì, è comodo, ci mancherebbe. Va bene.